Torna al successo il Chieti, tre punti fondamentali per la salvezza ottenuti contro il Fano 2-0 con le firme di Paglia e Cesario, un gol per tempo per regolare la pratica Granata, festa in campo, c'è anche la banda da allietare il pre-partita in tribuna prima della sfida per l'ultimo incontro all'Angelini nell'anno del centenario, fumogene e coreografia in Curva Volpi, premiazioni per diversi volti noti, nero-verdi del passato, Coppola, Alfieri, Bigoni, Berardino, Carpineta, l'obiettivo di Mauro Chianese, che torna a sedere sulla panchina del Chieti dopo aver scontato la squalifica e quello di tornare al successo dopo il capo rimediato a Termoli, di fronte il Fano che scende nel campo con un 4-4-2, Serge Sedro, lei in attacco, questa è la scelta di Fiscaletti, non ci sono Broso, Capezzani e Padovani, mentre nel Chieti c'è spazio in avanti per Mancini e Riosa, parte dalla panchina invece il capo cannoniere nero-verde Cesario che entrerà a partita in corso, più intraprendente il Fano nelle prime battute, qui Nicola Zanni, sferra un destro che si stampa sul palo alla sinistra del portiere Serra, poderoso il tentativo del calciatore Granata. Sospiro di sollievo per il Chieti che nel primo tempo spinge da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale, assente lo squalificato Michele Spinelli, quindi la fascia di capitano al braccio di Damian Salto, l'argentino confermato e di nuovo al centro del progetto in seguito al chiarimento in settimana con la società. Incontenibile quando parte Drolley in velocità tutto apprezzabile fino alla conclusione centrale, nessun pericolo per la squadra di Chianese che torna a proporsi in avanti l'incursione, quella del fuoricuota Mercuri in seguito da Giovanni Nappo che con il braccio sinistro sfiora il centrocapista del Chieti, intervento lieve che inizia fuori aria, Mercuri a terra, proteste legittime da parte del Fano anche se per Vito Guerra ci sono gli estremi per un calcio di rigore dal dischetto. Si presenta Davide Paglia che spiazza, Tommasino esultanza sotto la curva, Volpi per Paglia 1-0, gara che si sblocca l'urlo dell'Angelini. Gara che con le immagini a cura di Galvano Coppa si accende prima della conclusione del primo tempo a Monito in panchina Manuel Vitiello, buona gestione del Chieti, spuntato invece il Fano a parte qualche fiammata che nella ripresa però prova a pungere la squadra di Chianese costretta sulla difensiva ma nella fase centrale della ripresa torna a spingere il Chieti, pericoloso in diverse circostanze, calcio di punizione da distanza proibitiva, non per Vaccaro uno dei nuovi acquisti, titolare anche Mollica, buona prestazione per il siciliano, un campo nel secondo tempo pure Cesario. E per il fuoricuota Manuel Natella, tante le novità dopo il mercato di riparazione ma c'è il Fano di nuovo a caccia del gol del pareggio, deve difendersi il Chieti che però può sfruttare gli spazi in contropiede, pallone recuperato da Massavud. Moro Tola, Massavud partito dalla panchina, altruista il centrocampista, un sguardo verso Cesario che ottiene il pallone, segna il gol che mette in ghiaccio il risultato 2-0 all'Angelini per festeggiare al meglio il centenario. Fano al tappeto il Chieti, torna a graffiare.